Le dammi casola, è tutto, grazie. Linea allo studio. Non solo il ca... il vacca, ma... Si teme quindi il rischio di dover interrompere le nostre tradizionali madonna. Il riferimento alla castiglia della potata è la scelta. No, fermo, fermo, fermo! Fermo, fermo! Aspetta, guarda, guarda che continuavo a correre. Non mi fa loce! Dai, rimani in camera! Dai, fai lo stesso! Allora, devi parlare solo di amicuramento. Vera compagna di ricette di... Il timore più grande ora è quello di dover rinunciare alla mitica pulenta... Ascolta, Bento, il segnale è quando io ti faccio un scelto. Che fai di testa? Non lo fa a farlo, c'è. Allora, cosa devo fare? Girarmi e dire... Ehi, no, io ce l'ho fatta! Non mi sbatto il cazzo. Poi, oggi che ho usato anche io testa, guarda come sono in forma. Guarda come mi muovo. Musito, nasito, orecchito, musetto, musacchio, minacchio, cucchicchio... Oh! Lui non c'entra un cazzo. Perché ti sei mangiato da un bambino? Perché è una bea oia, ho fame.